Abbiamo qui per Campus Wave il direttore di RAI4, nonché il professore del campus universitario di Savona, il dottore professor Carlo Freccero. Allora professore, le chiediamo subito, la libertà è fondamentale, così lei in un suo stralcio della conferenza. Secondo lei la libertà possibile è un tema raggiungibile in questa tv generalista? Questa libertà è minacciata da tante cose, l'abbiamo vissuta in questi anni, e non è che io qui ripeto la solita storia. In compenso c'è un fatto molto nuovo, che c'è tutta la nuvola, il net, il web, eccetera, che lì è veramente un campo di libertà totale. Devo dire che molte volte è anche un campo di libertà irragionevole e non controllata, per cui ci sono anche difetti, perché non tutto mai è perfetto, eccetera. Però è chiaro che fa da contraltare oggi, fa da contraltare a questa cosa, l'informazione che è la materia primaria su cui si lotta, eccetera. E naturalmente quanti interessi nasconde l'informazione libera? L'informazione libera attacca qualsiasi tipo di cosa, eccetera. Quindi la vediamo un attimo, ho pensato un attimo al potere delle banche, l'informazione cosa può fare, può fare pochissimo. Quindi veramente oggi è una situazione molto problematica. Però in compenso c'è tutto questo nuovo continente che fa da contraltare. La scelta di una direzione tecnica, anziché televisiva, secondo lei, non rischia di limitare questa possibilità di espansione della libertà nella TV? Oppure al contrario aiuterebbe, essendo persone arrivate da un campo diverso, da quello dello spettacolo? E qui il problema, stiamo parlando del governo tecnico di Monti, che ha deciso di nominare presidente una professoressa. E l'altro, appunto c'è Gubitosi con manager, sempre finanziario naturalmente. Ho paura dalle loro biografie che conoscono poco, cioè che la televisione la frequentino poco. Io ho una paura, una seconda paura, che queste nomine siano in qualche modo in vista della privatizzazione della RAI. Questo mi spaventa molto perché privatizzare la RAI significa tante cose, vuol dire appunto cosa fare nel servizio pubblico. Cioè è una battaglia politica molto importante. Torno a ripetere, proprio perché mi collego alla prima risposta, l'informazione a oggi è il bene primario. Quanto è stata importante per lei la figura di Angelo Guglielmi nella sua carriera? Beh, è chiaro, cioè Guglielmi ha inventato una TV Verità e questo si è insegnato. Una cosa fondamentale è che la televisione non è solamente marketing, diciamo così, pubblicitario, eccetera, ma è anche, può essere fatta anche attraverso una visione culturale. È stato molto importante perché ha dato, ha fatto capire che le reti avevano una fortissima identità. È chiaro che anche RAI 1 aveva una fortissima identità della rete cattolica, però non c'era un'alternativa a questa grande visione della TV cattolica, della RAI 1. E lui ha saputo creare una TV invece con questa idea dove naturalmente l'informazione, l'elemento primario riclinato e tutte quante le sue variazioni, si è formata perché non aveva problemi di audience. Lo dico molto importante, cioè lui è partito da audience zero, per cui ha avuto questa libertà. Se fosse mai avuto, se la RAI 3 avesse avuto subito un obiettivo di audience, sarebbe stato tutto quanto più difficile naturalmente. Ogni volta che produco qualcosa hanno paura. Come mai questa affermazione, professore? Riconoscono ancora, cioè siamo ancora, siamo ancora negli ultimi, nella coda dell'effetto bulgare. La TV in qualche modo, con questo bulgare, ha fatto sì che certi generi non fossero praticati. Si praticava l'infotainment, ma non l'informazione. Si praticava un certo tipo di fiction e non un'altra. La piovra non si doveva fare. Si doveva fare un certo tipo di telegiornale e non quell'altro. Solo RAI 3 ha resistito a questa cosa. Questo è stato veramente un grossissimo errore, che ha ritardato l'esercizio della TV, quello che io chiamo, cioè la TV è bella se è differente, se è varia, se è variegata, se è contrastante, se è stropicciata. Se ci sono tanti modelli di TV, se ne fai uno solo, può essere un modello industriale, ma è di una noia mortale. Per fortuna, negli ultimi anni è nato tutto il mondo del netto, la TV a pagamento, infatti la TV a pagamento è un'approfittata per svilupparsi. Possono essere allora i giovani la carta vincente per cambiare questa TV? Allora, voi lo sapete che quando faccio le lezioni mi impegno veramente molto, è lo stesso che anche stasera. Cioè io mi rivolgo sempre ai giovani perché la TV ha bisogno di sangue nuovo. Poi i giovani hanno un consigliamento straniante, io amo quel tipo di giovani appunto che vede tutto quanto con un occhio straniante, cioè come se non fosse dentro a questo mercato ancora, con tutto quanto ha una voglia di riuscire, eccetera. Per cui trovo che sia una fondamentale, ma torno a ripetere, non per motivi di generosità, anche questo qua, ma assolutamente per cinismo. La TV senza i giovani non ce la può fare. E allora le sette regole d'oro per fare un buon programma, un personaggio straordinario qui per noi in esclusiva a Campus Wave. Ringraziamo il professor Carlo Frecero. Ringraziamo il professor Carlo Frecero. Ringraziamo il professor Brando a Passagna. Grazie a tutti.